E più 36 al 34esimo, grazie ad una buonissima difesa, 47 punti subiti in 30 minuti E ai punti di Cournot, 16 con 4 Il protagonista della serata, Cournot, 21 punti con 3 su 5 da 2 E 5 su 7 da 3, 14 per Green, 13 punti Dominando nel vero senso della parola sul parquet dei pluricampioni d'Italia di Siena Che comunque restano da soli in vetta alla classifica La menzana non è mai stata in gara Con continuità la via del canestro Alla fine, 87 punti realizzati con il 69% da 2 Più 8 a rimbalzo, 21 punti con 2 Grazie a tutti